Amiche e amici bianconeri, buonasera e ben ritrovati qui sul canale. Siamo in questo secondo contenuto a portare degli aggiornamenti sugli esuberi della Juventus, uno in particolare e poi consentitemi anche di affrontare un po' un certo tipo di tema, perché è un tema che scalda, è un tema per il quale mi avete chiesto anche di sbilanciarmi. Ora, io non sono a libro paga della Juventus e quindi non sono aziendalista perché debbo portare a casa un impiego in Juventus in una maniera più assoluta o perché sono pagato dalla Juventus. Semplicemente non sono solito attaccare in maniera inopinata, in maniera sconsiderata, ma soprattutto in maniera affrettata, ancora prima magari di aver visto bene tutte le sfaccettature delle situazioni, fermo restando che con questo non voglio dire che molti di voi non abbiano ragione, anzi, molto probabilmente molti di voi hanno molto più ragione del sottoscritto, però ecco, prima di criticare così come spesso leggo, mi piace capire fino in fondo le cose, forse sono tardo io e ci metto molto più tempo a capirle, però scelte incomprensibili e aggiornamenti sugli esuberi Juve, è un po' il contenuto di questo pomeriggio, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, abbonatevi a capire le notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo della puntata, sperando possa essere stata di vostra compagnia. Allora, intanto parliamo subito con un aggiornamento, perché nella giornata di oggi Scesni fondamentalmente è giunto al passo d'addio, non è stata trovata nessuna soluzione che potesse portare alla Juve un risparmio dell'ingaggio e magari anche un introito, seppur piccolo, a livello del cartellino, per cui su Scesni molto probabilmente verrà messa a bilancio, è stata una minusvalenza perché la Juve procederà di comune accordo con l'enturato del calciatore alla risoluzione consensuale, ovviamente pagando una cospicua buona uscita. Diciamo subito che Scesni impattava ancora a bilancio per una cifra intorno ai 13 milioni, che sono l'ultimo anno di contratto, cartellino completamente ammortizzato, ma aveva un ingaggio di quasi 7 milioni netti a stagione, che per il club sono praticamente il doppio. E quindi la Juve si, tra virgolette, libera del peso Scesni, ma lo fa in maniera totalmente contraria o differente da come l'aveva immaginato. Fa da sé che quando fu firmato Michele Di Gregorio, c'erano in corso trattative che avrebbero potuto portare Scesni all'Al Nasr, la squadra di Cristiano Ronaldo, che peraltro era stato sponsor dell'operazione, poi qualcosa è andato storto, qualcosa si è incagliato, Scesni non è andata all'Al Nasr, si è parlato a lungo di una sua possibile approdo al Monza di Gagliani, ma con la Juve che avrebbe dovuto compartecipare almeno al 70% dell'ingaggio, la Juve e Scesni arrivano alla risoluzione del contratto, buona uscita per il calciatore, che ora deciderà da free agent se appendere i guantoni al chiodo oppure andare a trovare magari un'esperienza altrove. lui disse in Italia mi vedo solo con la maglia della Juve, quindi vediamo se sarà con una possibile approdo al Monza, io un po' ne dubito, oppure magari se non dovesse appendere i guantoni al chiodo fare un'esperienza negli Stati Uniti. Ma ci sono altre cose che per me sono incomprensibili, una su tutte, una su tutte è la gestione di Tiago Jalot. La gestione di Tiago Jalot è qualcosa che mi lascia completamente basito, perché la Juventus ha fatto salti mortali per strapparlo all'Inter, lui aveva un accordo per approdare all'Inter nel corso di questo luglio 2024 a parametro zero, la Juve con un'operazione blitz ha invece fatto sottoscrivere un accordo con se stessa, cioè con il club bianconero, Giunti l'ha fatto sottoscrivere un accordo con il club bianconero pagando un indennizio da circa 3,8 milioni se non sbaglio di euro per strapparlo al Lille, era la sua squadra di appartenenza, correggetemi se sbaglio, ma è una scelta che ovviamente mi trova, mi trovò favorevole, mi trovò favorevole perché ci sta che per investire su un calciatore giovane con davanti ancora una grande possibile luminosa carriera con ampi margini di miglioramento, investire una cifra di quel tipo ci stia tutto, anche perché nella peggiore dell'ipotesi lo puoi rivendere e difficilmente farai una minusvalenza, tra l'altro con un ingaggio comunque tutto sommato abbordabile, ma le cose sono andate in maniera diversa, ci siamo raccontati che fosse un po' un dispetto di Massimiliano Allegri quello di non impiegarlo in campo perché è calciatore acquistato da Giuntoli con cui non correva buon sangue, e invece ci ritroviamo con Tiago Cialocchi anche agli ordini di Tiago Motta non vede il campo, non vede il campo, lo vede nella prima amichevole abbastanza disastrosa, io credo che non si possa giudicare un giocatore per un amichevole, la prima per trarre dei giudizi fondamentalmente definitivi, però è evidente che al di là di quella amichevole, Tiago Motta ha ritenuto che Tiago Cialo non fosse ancora pronto per una stagione importante alla Juventus, non avesse magari margini per potersi prendere un posto titolare, non ci fossero le condizioni per poterlo tenere, facendogli giocare magari le briciole ad un giocatore che già fermo per circa un anno, per un infortunio al ginocchio, invece ha bisogno di giocare. Però resta il fatto che questa era una situazione fondamentalmente che conoscevi, che sapevi e se acquistare questo giocatore doveva comportare poi il dover trovare una destinazione per lui, per potergli consentire di giocare con una certa regolarità, beh, io resto comunque basito per l'investimento fatto, perché obiettivamente potevano quei soldi essere destinati altrove. La Juve in giornata ha perfezionato il trasferimento di Seculo alla Sampdoria, l'avevo già riferito la settimana scorsa, e quindi continua l'esodo di questi giovani che lasciano la Juventus per portare nelle casse l'infa per alimentare un bilancio che era in netta sorferenza. Anche Nicolussi Caviglia è un passo dal abbracciare il progetto del Venezia. Per la Juve sono in arrivo altri 5 milioni di euro circa e poi c'è una sorta di muro e di grana da dover risolvere, perché ci sono giocatori come Chiesa, come Kostic, come McKennie, come Rugani, anche qui altra scelta abbastanza discutibile da parte della Juve di prolungare il contratto per un giocatore che oggi invece è ritenuto fuori dal progetto, e ai tanti che mi hanno scritto «Ma scusami, ma perché Rugani non è meglio di Kalulu?» Allora, io mi esimo dal dare dei giudizi definitivi, perché ovviamente Kalulu viene da una stagione nella quale non ha praticamente giocato per una serie di ritrati infortuni che lo hanno estromesso dal calcio che conta, e quindi bisogna capire come eventualmente avrà recuperato e sarà a disposizione. A tal proposito, attenzione, perché ad esempio Varane acquistato dal Como, colpo sensazionale, se vogliamo per una matricola come il Como mettere sotto contratto un calciatore che è stato un perno del Real Madrid, è stato un perno del Manchester United, però nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria è già arrivato il primo infortunio muscolare per Varane, che già aveva saltato diverse partite la passata stagione, da qui probabilmente i motivi per i quali nessun top club si è avvicinato per firmarlo a parametro zero. Per lui già oltre un mese di stop preventivato. E quindi, dicevo, su Calulu vedremo, lasciamogli il tempo di capire se sarà veramente abile e ruolato, come potrà rendere, perché se sano è sicuramente un calciatore che ti offre maggiori alternative, maggiori possibilità rispetto a Rugani, il quale, quando ha giocato, nella passata stagione soprattutto, non possiamo certo dire che abbia fatto male, ma evidentemente non è giocatore particolarmente gradito a Tiago Motta, che predilige un'altra tipologia di calciatore. E ovviamente noi dobbiamo anche rispettare un po' quelli che sono le considerazioni di un allenatore nuovo, che ha delle idee sue, e che arriva in una rosa nella quale magari in diversi elementi non ci si riconosce. Poi, i giudizi che diamo noi sono giudizi da tifosi per magari anche una certa sorta di affetto verso giocatori che per anni sono stati lì a difendere la maglia della Juve e lo hanno fatto con professionalità, nonostante magari non siano stati certamente degli indimenticati campioni. Ma quando una persona lo fa in maniera seria, professionale, dà tutto per la maglia che ti rappresenta, credo che la stima e il rispetto siano guadagnati d'ufficio. E quindi su Rugani attendiamo di capire come potrà rendere Caluru e poi vedremo se sarà stata una scelta giusta o meno, ma anche Rugani resta una grana perché l'Al-In offre un ingaggio sensazionale al calciatore, il quale nicchia e probabilmente declinerà la proposta perché la moglie ha già dichiarato, come vi ho detto, nel presente contenuto di rimanere in Italia, di non fermare la volontà di Daniele Rugani ma di rimanere in Italia per crescere suo figlio qui in Italia. E quindi lui non ha nessuna intenzione di separarsi dalla famiglia per andare a prendere anche un contratto molto molto interessante. Detto questo, vediamo, perché comunque restano sul groppone gente come Kostic, su te che l'ho detto si è arrivati ai saluti per la risoluzione del contratto, ma ti comporta un esborso non indifferente a livello di buona uscita e ti restano ancora le situazioni appunto Kostic, Rugiani, Desciglio, altro giocatore con il quale dovrai arrivare a una risoluzione del contratto perché altrimenti non lo cerca nessuno e non lo vuole nessuno. Forse su Arthur potrebbero esserci dei timidi interessamenti, anche la Fiorentina è tornata a bussare alla porta, ma siamo sempre lì, ingaggi spropositati che allontanano qualsiasi pretendente sia italiana che estera e quindi anche da questo punto di vista bisogna riflettere e riflettere bene perché questi ingaggi poi sono quella cosiddetta spada di Damocle che ti tornano indietro e ti impediscono di fare cassa sui giocatori che magari un allenatore ritiene fuori dal proprio progetto. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre fino alla fine. Ciao!